Marco Colonnelli, studio architettura e design, è uno dei protagonisti di Open Air, il nuovo gruppo di imprese nate per fare Deors, per realizzare, progettare, costruire Deors a regola d'arte ma anche a regola di regolamento del nuovo regolamento comunale. Quindi chiediamo a Marco Colonnelli quali saranno le caratteristiche di questo gruppo dal punto di vista tecnico e del design. Noi come studio di progettazione abbiamo aderito fin dal primo momento a questo progetto, prima perché gli artigiani con cui è in fase di sviluppo sono artigiani che quotidianamente frequentiamo nei nostri progetti, nei nostri cantieri, nelle nostre realizzazioni, quindi c'è già un rapporto di lunga data. Di fronte appunto a questa nuova situazione normativa che è stato appunto il nuovo regolamento del comune di Bologna, noi progettisti, quando dico noi, intendo un gruppo appunto di ingegneri, di architetti, di grafici, di impiantisti, non abbiamo fatto altro che prendere il nuovo regolamento, studiarlo, questo è successo appunto negli ultimi 5-6 mesi, a dicembre si è avuta l'approvazione definitiva del regolamento, dicembre 2012, per cui abbiamo iniziato anche a fare degli appuntamenti interlocutori con gli uffici tecnici competenti per cominciare a fare anche delle domande, come dire, più dettagliate sui materiali, sulle caratteristiche, sulla possibilità di derogare alcuni aspetti. Fatto questo non abbiamo fatto altro che sviluppare e anche trasferire, diciamo, agli artigiani tutta una serie di iniziative. Questo, diciamo, è l'aspetto più tecnico, più legato alla normativa. Mi piace anche sottolineare un altro aspetto, che è quello tutto legato alla figura dell'artigiano. È stato fin dal primo momento l'intento di tutti noi non quello di andare a codificare i Deor in quanto catalogo seriale. Non esiste all'oggi da parte nostra un catalogo di come vogliamo fare i Deor. Non ci proponiamo ai clienti in questa maniera. Intendiamo il Deor come un abito, un abito sartoriale, che risponda prima di tutto ai nuovi regolamenti, ma che incontri anche quelle che sono le esigenze funzionali degli esercenti commerciali, dei baristi, dei ristoranti, dei vari locali che richiedono o di realizzare un nuovo Deor o di mettere a norma l'esistente. Per cui abbiamo l'ambizione di essere i disegnatori di questo modello dell'abito sartoriale e mettendo a frutto però poi soprattutto quelle che sono le competenze, le capacità di tutti gli artigiani coinvolti. A me piace sempre sottolineare quando parliamo di questo progetto che i singoli artigiani, le singole aziende coinvolte sono aziende che potrebbero benissimo fare un Deor da soli. Loro stessi hanno scelto di non rimanere sul mercato in maniera solitaria ma di condividere la loro professionalità e anche di migliorarla per certi versi perché dal confronto poi può nascere anche qualcosa di nuovo, qualcosa anche di innovativo come al punto il tema dei pavimenti riscaldanti e raffrescanti. Si sta lavorando intorno a questo tema, un progetto che è anche sperimentale per certi versi perché è un prodotto che stiamo brevettando, permette appunto di realizzare Deoro con una superficie riscaldante e raffrescante e l'obiettivo è quello di arrivare a emissioni zero e alimentare cioè queste pedane con pannelli fotovoltaici e contribuire anche a un discorso ecosostenibile che a nostro avviso è importante quanto quello del decoro urbano. Grazie a tutti.